Da quando è uscito questo video, quello su come installare Arch Linux da una distribuzione già installata, per voi sono passate tipo due settimane e mezza, però per me in realtà da quando l'ho registrato sono passati pochissimi giorni, perché oggi per me è il 5 maggio e quel video l'ho registrato il primo maggio, quindi per me è praticamente recente, è proprio l'ultimo video che ho registrato, o il penultimo, quindi comunque per me è una cosa molto recente. L'altro giorno quindi, mentre lo stavo editando, comunque in generale stavo un po' pensando a quel video, stavo pensando se l'avevo fatto bene o se magari potevo aggiustare qualcosa, ad una certa mi venne un flash, qualcosa del tipo, ma ho installato Pacman, il Package Manager, su Ubuntu e funziona. Ora, se anche voi volete provare ad installare Pacman su Ubuntu, vi lascio il video, questa volta lo faccio giusto, nelle schede, a questo video appunto in cui mostro come effettivamente installare Pacman su Ubuntu, non lo farò poi vedere in questo video perché altrimenti sarebbe una ripetizione, non avrebbe senso. Comunque stavo pensando, cavolo, o Pacman su Ubuntu, cosa succederebbe se provassi ad installare ad esempio, non so, Firefox, un pacchetto così, il primo che mi è venuto in mente, Darch su Ubuntu usando Pacman, quindi pacman-s Firefox su Ubuntu per vedere se effettivamente funziona, disinstallando prima ovviamente il Firefox di Ubuntu, quello installato tramite APT e vediamo se funziona, vediamo cosa succede. Sarebbe veramente bellissimo se funzionasse, ovviamente come sempre, come quando facciamo questi esperimenti, non possiamo aspettarci che funzioni e comunque non possiamo aspettarci che funzioni senza problemi perché poi magari anche se Pacman riesce ad installare Firefox poi magari non si apre o è lentissimo o ha problemi magari di librerie perché comunque Firefox per Arch è ad una versione molto più nuova rispetto a quella di Ubuntu, ovviamente essendo una rolling release e quindi anche se effettivamente poi riuscisse ad installarlo, non possiamo aspettarci che sia senza problemi, però proviamo e sarebbe bello se riuscisse ad installarlo perché poi magari fra una settimana, sempre in questo video, potrei provare anche ad aggiornare usando pacman-siu e vedere se me lo lascerebbe anche aggiornare, quindi detto questo andiamo e vediamo se funziona. Proviamo innanzitutto con un pacchettino diciamo un po' basilare come ad esempio può essere Firefox, non so perché mi viene da dire che sia basilare, in realtà è quello più semplice per capire se è effettivamente installata la versione di Arch perché se io vado qui in aiuto informazioni, vedete che qui mi dice Mozilla Firefox for Ubuntu, ad esempio su Arch dice for Arch, su Linux Mint for Linux Mint ovviamente e quindi qui dovrebbe fare la stessa cosa. Proviamo innanzitutto a disinstallarlo così intanto non diciamo facciamo confusione. E' meglio rimuvo push, lo chiedo per gli Ubuntu niani, con il dubbio facciamo push che dovrebbe togliere poi anche le dipendenze, quelle cose lì, quindi andiamo. E chi si ricorda la password? Forse, ok, ricordarsi la password delle macchine virtuali è sempre un po' problematico. Comunque, ora noi qui abbiamo Pacman, vi ricorderete l'avevamo installato, quindi eccolo qui e funziona. Quindi sudo pacman-s Firefox. Vediamo se ci scavola, diciamo per non dire altro il sistema, oppure se funziona. Qui Jack, boh, direi di fare di default, direi di fare di default. Ok, cioè praticamente mi installa Arch, ho capito, mi installa Arch sopra Ubuntu. Vabbè, proviamo, proviamo. A limite si scavola il sistema, appunto. Poi riavviamo, non funziona più niente. Ma tanto è una macchina virtuale, mal che vada da piallo. Ah, non funziona. Non funziona perché il problema è che ragazzi, adesso dobbiamo fare una cosa molto pericolosa, questa cosa da non fatelo a casa. Cioè vedete che qui mi dice che è già presente nel file system. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare a sovrascrivere questi file. E' una cosa che non va fatta a casa perché il problema è che così sovrascriviamo i file creati dai pacchetti di Ubuntu. E questo ovviamente creerà problemi. Cioè non dobbiamo chiederci chissà se creerà problemi. Di sicuro creerà problemi, ma non sappiamo quali. E quindi facciamo la stessa cosa, diamo questo. Però con il flag, meno meno overwrite. E così, 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 che vuol dire sovrascrivi tutto. Adesso lo rifacciamo. Tra l'altro ci sono già i pacchetti in cache, quindi adesso non vi riscarica, ma arriva solo ad installare. Cioè in teoria li avrebbe solo installati, però non funziona. Quindi immagino che Firefox però sarà la versione di Ubuntu, immagino. Eh, infatti. E quindi praticamente possiamo dire che non funzioni. Peccato, speravo funzionasse anche perché una cosa che volevo fare poi sinceramente era provare ad installare il kernel di Arch Linux qui. E poi appunto vedere se funzionava. Allora, possiamo provare. Abbiamo già visto che il kernel, il Firefox, il browser non lo installa. Non mi interessa poi neanche andare se overwrite non funziona. Non direi di non insistere. Quindi, perché ovviamente una soluzione sarebbe eliminare quei file che Pacman non riesce a sovrascrivere, ma... E' meglio non farlo perché a questo punto non è più un esperimento, ma è semplicemente un giocare. Poi magari funziona. Oppure comunque magari eliminiamo tutti i file, ma poi Pacman comunque va in errore e non abbiamo risolto niente. Quindi proviamo ad esempio ad installare il kernel Linux. Sempre immagino che sia necessario il flag overwrite. Ok. 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 Vediamo se questa volta installa almeno il kernel. Sarebbe bellissimo perché magari riusciremo ad avviare Arch con il kernel. O meglio, il contrario, Ubuntu con il kernel di Arch. Però, vedendo che prima non è andato con l'installazione di Firefox, non credo andrà questo giro. Eh, infatti. Vabbè, è un esperimento così andato diversamente bene. Però è stato comunque secondo me interessante. Sarebbe stato bello ovviamente se avesse funzionato, ma se lo dovevamo aspettare. Peccato, devo dire. Mi ho un po' dispiaciuto che non abbia funzionato. Sarebbe stato bello? Io mentre pensavo a questo video stavo già pensando, ah sì, poi installo il kernel, così poi uso Ubuntu in macchina virtuale con il kernel di Arch. E però tutte queste cose si sono sciolte come neve al sole. Pensavo di fare un video super interessante, invece niente di tutto ciò. Ma va bene, va bene. È stato comunque un esperimento che secondo me ha valso la pena. Almeno secondo me tutti gli esperimenti valgono sempre la pena. A prescindere poi che funzionino meno, anche perché fare un esperimento è un po' alla fine un modo per divertirsi. Quindi scrivetemi nei commenti cosa ne pensate e siate sinceri. Scrivetemi se voi vi aspettavate che funzionasse o magari avevate anche già provato, non lo so, oppure sapevate per qualche motivo che non avrebbe funzionato. Lasciate mi piace come sempre se questi esperimenti, se questi video domenicali, così un po' diciamo che non hanno alcun senso, ma che magari sono anche un po' divertenti, un po' così i video reggeri, vi piacciono. Iscrivetevi al canale nel caso in cui fosse così. E noi ci rivediamo, come sempre, in un prossimo video. Ciao!